Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale! Oggi facciamo un gioco. Io ho chiesto alla Chiara, la vostra allenatrice, ok? Chi è di voi che è in un certo modo? Alcune sono proprio facili, facili, facili. Altre magari ci dobbiamo pensare un pochino sopra, ok? Ci siamo? Allora, io vi dico la domanda al mio tre, girate tutti il nome che pensate sia la risposta, allora vediamo chi ha dato la risposta giusta, chi dà la risposta giusta prende un punto, ok? Vince questa sfida, no, vince la sfida chi ha più punti, ok? Adesso lo capisce subito Sara. Allora, prima domanda. Voi fate tutte ginnastica artistica, giusto? Sì, sì. Quindi la prima domanda è chi è di voi la più artistica? Prendete il nome, chi è pronto lo chiude come Melissa, così. Chi è la più artistica? Ma che si dica? Più... Eh, non si dica. La più artistica. 3, 2, 1, via. Allora, Sara dice... Ne... Non cambiate. Sara dice Nelly. Nelly dice Elena. Melissa dice Nelly. E' al contrario. Elena dice Elena. E in questo caso si vede che le tre grandi conoscono molto bene l'Elena. Ma, mi aspetta qua. Vuoi vedere la lettera di una mia così? Va bene. Seconda domanda Questa guarda è facilissima Anche chi guarda questo video In un secondo dirà subito la risposta Chi è la più chiacchierona? Non barare Tieni giù quelle gambe Chiara Ci sei Sarina? Pronti? 3, 2, 1 Via E al contrario Sara ma si vede che hai detto Chiara 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 Sara Sara Tutto è un punto E infatti Terzo Chi è la più furba Furba Non sono io Non lo so nemmeno Che è proprio Ma ognuno pensi per sé Non dite niente Quindi tutte pronte? Sì Chiara ci sei? Sì 3, 2, 1 Giro Allora Fermi fermi Sara 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 Nelly Sara Brave Pensavo che questa l'avresti sbagliata La Chiara ha detto proprio che sei tu Sara la più furbetta Il prossimo è chi è la più vanitosa Che vuole riposta solo te 3, 2, 1 Giro Allora Melissa Nelly Chiara Nelly Nelly Cosa avrà detto secondo voi la Chiara? Io Giusto Adesso c'è chi è la più silenziosa Vabbè Solo solo Ci sa questo Posso mettere una Sì 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 No No Perché volevo mettere una Sì 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 Pronti? 3, 2 3, 2, 1 Via Oh Tu Ferma Melissa Melissa Elena Melissa Melissa Melly Eri proprio tu Lei Chi è la più Paurosa? Chi è la più 3, 2, 1 Girare I'm playing Tutti uguali Chiara 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 Ed è giusto Chi è la più Permalosa? Però c'è una Molto più Permalosa Delle altre Anch'io lo so Io lo so Eh non lo so Dovete girare 3, 2, 1 Girare Vediamo Gira Gira Nelly Nelly Sara Nelly Nelly Ed è l'Anelli Fermi tutte Chi è la più elegante? Chi è la più elegante? Chi è la più elegante? Ma non c'entra come siete vestite Elegante nei movimenti Pronte? 3, 2, 1 Via Chi è la più Coraggiosa Pronte? 3, 2, 1 Girare Allora Dice Nelly Fermateli Nelly Melly dice Nelly Nelly E Nelly Tutte hanno sbagliato Chi è? La più coraggiosa? Nelly Avete sbagliato tutte Chi è? La più coraggiosa Ha detto la Chiara Che è la Sara Ma Sara Ha detto che era giusto Chi è la chiara Chi è la più cascherina? Cioè la serina Chi si mette più sasco? No No Chi cade più spesso Pronte? 3, 2, 1 Girare Tutti Mi hanno detto Melissa 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 È vero È una cascherina Un po' ubriacotta Ogni tanto Vero Adesso Chi è la più Lamentosa? Chi si lamenta Di più 3, 2, 1 Girare Allora Allora Sara dice Sara Nelly dice Nelly Melly dice Chiara Elena dice Chiara Chiara dice Chiara E hanno ragione Elena Chiara E Melissa Giusto? Manca l'ultima Chi è la più testarda? Cioè? Testarda vuol dire che Si mette lì Prova Riprova 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 3, 2, 1 Girare Allora Vediamo Melissa Melissa Sara Melissa Chiara Allora So che è Nessuna Nessuna? E lì No No La Chiara ha detto che siete tutte testarde uguali Ma voi Non ne vado Così Non riuscivo a prendere una decisione Mi ha detto tutte Ma dove è che non tu vai Che hai fatto la fede Se non Quindi avete sbagliato tutte? Allora Melissa Più Elena Più Chiara Cos'era Esatto Va bene Comunque nonostante questo La Vincitrice È Elenina Elenina Va bene Elena Allora Visto che hai vinto Sarai quella che farà Il saluto finale Ciao a tutti Ci rivediamo nel prossimo video Vi capito Siamo 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 Su Siamo Siamo Grazie a tutti.